L'intelligenza artificiale è un ramo, una branca dell'informatica che si concentra principalmente sullo sviluppo di algoritmi o sistemi che possono compiere dei compiti più o meno complessi che normalmente richiedono l'intervento umano, l'intelligenza umana, la capacità di ragionamento dell'essere umano, il riconoscimento del linguaggio naturale, il riconoscimento del linguaggio corporeo, L'apprendimento automatico è la percezione visiva, ci sono due tipi di intelligenza artificiale, anzi due macro categorie, l'intelligenza artificiale debole che si concentra sullo sviluppo di un algoritmo atto a risolvere solo una problematica specifica Poi abbiamo l'intelligenza artificiale forte che cerca di replicare appieno l'intelligenza dell'essere umano L'intelligenza artificiale è un campo in continuo sviluppo e ce ne stiamo accorgendo oggigiorno che sta facendo passi da gigante e sta diventando sempre più user friendly Alcuni campi che ad esempio possono essere sviluppati dall'intelligenza artificiale sono l'apprendimento automatico che è una forma di intelligenza artificiale composta di algoritmi intelligenti che servono per comporre, analizzare dati, imparare da questi per andare a migliorare l'accuratezza delle previsioni in campo decisionale in base al suo utilizzo ovviamente L'intelligenza artificiale atta al riconoscimento del linguaggio naturale che sia del corpo sia del linguaggio degli esseri umani che è una forma di intelligenza artificiale che si concentra sull'analisi del linguaggio umano che sia parlato, che sia scritto e oppure che sia il classico movimento del corpo L'intelligenza artificiale atta alla visione artificiale ovvero che si concentra sull'analisi di dati fotografici o video come ad esempio il riconoscimento visivo di un oggetto oppure l'intelligenza artificiale associata alla robotica che si concentra sullo sviluppo di robot in grado di compiere azioni in autonomia oppure sotto comando E non solo, l'intelligenza artificiale sta apprendendo sempre più piede nella vita quotidiana di tutti i giorni e anche in altri ambiti più vicini a noi come ad esempio la medicina, la finanza, la produzione o come stiamo vedendo su YouTube e sui social nell'ultimo mese tramite degli applicativi che stanno aiutando i content creator o tutte le persone che hanno normalmente bisogno di un copywriter e tutto ciò sta destando non poca preoccupazione per quanto riguarda la privacy prima di tutto basti pensare alla generazione di immagini tramite un testo da dove prende queste immagini l'intelligenza artificiale quale metadati e dati ha analizzato questi dati sono protetti da privacy o meno inoltre ci sono delle forti preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto che avrà questa intelligenza artificiale ormai è la portata di tutti sull'occupazione lavorativa sicuramente ci saranno dei lavori che si andranno a perdere ci saranno dei lavori che integreranno e si adatteranno con l'intelligenza artificiale e tanti altri che usciranno grazie proprio all'intelligenza artificiale il mondo in continua evoluzione la tecnologia è in continua evoluzione ogni giorno escono applicativi ogni giorno escono delle implementazioni e sta solamente all'utilizzatore a noi farne buon uso e far sì che tutta questa tecnologia che nasce per supportare l'essere umano e le nostre conoscenze non vada poi veramente a prendere il posto dell'essere umano ma dopo questo preambolo dove ho cercato di spiegare a grandi linee che cos'è l'intelligenza artificiale e se siete interessati all'argomento vi invito anche a approfondirne in autonomia o con chi è più esperto di me ovviamente andiamo a vedere quali sono gli applicativi che possiamo usare noi persone comuni che hanno implementato l'intelligenza artificiale il primo applicativo che oramai tutti conoscerete se bazzicati sui social su youtube su facebook, instagram, tiktok e l'ormai blasonata chat gpt ha preso piede perché è stata una delle prime se non la prima chat associata ad intelligenza artificiale e ad uso completamente gratuito chat gpt non è altro che un prototipo di chat bot che è basato sull'intelligenza artificiale e machine learning che è stata sviluppata da open AI la sua prima release è stata rilasciata il 30 novembre 2022 questo bot è un modello di chat linguistico veramente con grande dimensione che è stato messo a punto con delle tecniche di apprendimento automatico e automatizzato non è ovviamente una release definitiva infatti se andate poi a chiedere utilizzare chat gpt vi accorgerete che effettua ancora degli errori di ortografia o degli errori di sintassi però potete capire bene il grande potenziale che si ha già con un applicativo del genere questo tipo di chat bot personalizzate possono essere utilizzate per costruire altre chat bot vi può dare informazioni sulla programmazione vi può dare informazioni su qualsiasi cosa voi li vogliate chiedere può essere utilizzata per generare nuove idee di contenuti o per scrivere interi pezzi di articoli di contenuti traduzioni, ricerche scolastiche insomma può veramente fare di tutto facciamo una prova ad esempio possiamo andargli a chiedere cos'è bitcoin e vedete in pochi secondi che cosa va a creare totalmente in modo automatico analizzando metadati e informazioni che trova sul web e vediamo che cosa ha scritto bitcoin è una criptovaluta ovvero una valuta digitale basata sulla tecnologia blockchain è stata creata nel 2009 da Nindoevido un gruppo di persone con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto era presente un sistema di pagamento peer-to-peer decentralizzato in cui le transazioni sono registrate in un registro pubblico e immutabile chiamato blockchain Bitcoin è stato il primo esempio di criptovaluta e rimane tuttora la più conosciuta utilizzata al mondo questo è già un piccolo paragrafo che ci fa capire il potenziale di chat e GPT possiamo ovviamente andargli a chiedere anche più informazione ad esempio scrivendo dimmi di più vediamo che cosa va a aggiungere Bitcoin utilizza la tecnologia blockchain per garantire la sicurezza e la trasparenza delle transazioni la blockchain è un registro digitale distribuito che registra tutte le transazioni effettuate con Bitcoin e bla 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 vedete che sta continuando a generare testo sulla domanda che gli avete fatto possiamo addirittura andare a chiedere un supporto delle linee guida per creare un e-commerce per creare un'attività online per farci dare una mano a ricercare tutte quelle informazioni che prima avrebbero avuto bisogno di ore di ricerca ma chat GPT non è l'unico applicativo di intelligenza artificiale ok è quella gratuita quella che viene più utilizzata però sono stati sviluppati tanti altri applicativi uno di questi ad esempio è allwritesonic.com è un sistema di intelligenza artificiale con un abbonamento ma è ancora più completo sotto alcuni aspetti integra anche questa chat GPT però va a sviluppare a prendere tutta quella branca che al momento chat GPT fatica un po' ad essere sviluppata è interamente e viene utilizzato soprattutto per il copywriter infatti possiamo accedere a dei servizi di intelligenza artificiali per andare a scrivere dei blog per andare a scrivere dell'introduzione delle articoli possiamo andare a generare delle storie completamente adattate al SEO possiamo addirittura andare a utilizzare questo sistema di scrittura per andare a creare delle descrizioni dei prodotti fare delle campagne su Amazon o addirittura su Google utilizzarlo per creare delle advertising su Facebook Ads su Google Ads, LinkedIn e tante altre possibilità puoi aiutarci con le parole chiave puoi aiutarci a trovare il SEO MetaTag aiutarci nella descrizione dei video di YouTube titoli di YouTube o addirittura a darci delle idee a seconda delle parole chiave per andare proprio a creare dei video su YouTube o su qualsiasi altro social non in ultimo che è stato appena abilitato anche la possibilità di andare a creare dei post automatizzati per generare interesse su Twitter e non solo le integrazioni e l'utilizzo di questo servizio ovviamente avendo un abbonamento si può usare a scopo lavorativo per andare a risparmiare eventualmente sull'utilizzo di un copywriter in carne ed ossa o su un'agenzia che si occupa di SEO Marketing Advertising, gestione dei social e così via infatti anche questo secondo me un settore lavorativo che negli anni se verrà sviluppata sempre di più questa intelligenza artificiale probabilmente potrebbe soffrirne un po' è disponibile anche una versione test dove si possono creare degli articoli adesso non mi ricordo se forse ci sono 2000 parole gratuite dopodiché chi vuole utilizzare questo servizio deve andare a pagare un abbonamento un abbonamento che a seconda dell'utilizzo che uno ha non è per niente costoso si parte con 47.500 parole utilizzato solo da un account a 12 dollari e 67 al mese anzi ok la versione di prova non è 2000 parole ma adesso è 6.250 parole mi pare quando l'ho provata io il mese scorso fosse di 2000 parole ma questa informazione prendetela con le pinze perché ultimamente ne sto provando talmente tante che magari mi sto confondendo abbiamo poi Jasper.ai che è uno strumento che è basato anch'esso sull'intelligenza artificiale in grado di scrivere blog, post sui social o piccoli testi o addirittura libri in completa autonomia dandogli solo delle piccole indicazioni e non solo similmente a AllWriterSonic anch'esso può andare a creare mail marketing, testi di copywriting landing page facebook ads o google ads script per i video twitter e tante altre cose che normalmente avrebbero bisogno di un'assistenza, di un copywriter magari professionista se si fa con uso lavorativo l'intelligenza artificiale è andata per rompere le scatole anche i servizi legali infatti abbiamo The Not Pay che è un chatbot di servizi legali che anch'esso viene offerto su abbonamento attualmente è disponibile nel Regno Unito e negli Stati Uniti e la sua prima versione è stata lanciata addirittura nel 2015 è disponibile solamente lingua inglese è un applicativo che si può usare sia tramite browser sia su dispositivi mobili interessante questo sviluppo perché un avvocato robot cerca ovviamente di minimizzare i costi eventualmente di consulenze legali e magari anche i tempi d'attesa per procedere ad esse abbiamo poi Mid Journey che è un lavoratorio di ricerca che va a creare immagini da descrizioni testuali attualmente addirittura sul canale di Discord conta se non vado errato 8 milioni di utenti attualmente questo strumento è in versione beta aperte a tutti e il suo primo utilizzo è stato fatto dalla rivista britannica The Economist per creare la copertina di un numero di giugno 2022 il servizio è molto simile a Dell i2 anche questo è un servizio che va a creare immagini prendendo spunto dal testo disponibile anch'esso grazie a OpenAI Labs quelli stessi di JATGPT ci permette di creare un'immagine partendo da un testo facciamo un breve esempio mettiamo criceti 3D e vediamo che cosa riesce a generale adesso sta analizzando tutti i dati, metadati, immagini prese dal web e vediamo che cosa riesce a tirar fuori mamma mia che brutti questi crescetti sono spaventosi comunque dal copywriting all'advertising andiamo a esplorare a rompere le scatole anche al settore della grafica da qua possiamo procedere eventualmente a prendendo spunto da questa immagine e si può salvare condividere oppure andare a sviluppare un'altra versione possiamo andare a mettere bitcoin vediamo un po' che cosa ci va a generare attendiamo la ricerca tra i metadati e vediamo che cosa ci tira fuori sperando non sia spaventosa come quei criceti e dai sì sicuramente meglio dalla ricerca precedente però capite bene anche questa parte gli esempi a parte immagini scherzoso o meno il potenziale di sviluppo e impatto che può avere un applicativo del genere un altro applicativo interessante dedicato all'intelligenza artificiale è Synthesia.io Synthesia.io un servizio a pagamento che permette di creare dei video con intelligenza artificiale con delle persone degli avatar che possono parlare in 65 lingue e creare campagne pubblicitarie creare video su misura andando a leggere il testo che noi andiamo a scrivere completamente andando a intonare il linguaggio in base alla lingua scelta per quanto riguarda la traduzione anche questo servizio è molto utile soprattutto ad uso lavorativo perché ha un abbonamento di 30 dollari e permette di creare dei video utilizzando dei crediti 10 video crediti al mese tenete conto che un credito video è un minuto di video di registrazione quindi chi deve utilizzarlo ad uso lavorativo soprattutto per creare delle campagne marketing avrà bisogno sicuramente di un piano su abbonamento personalizzato che viene concesso contattando il servizio clienti bene siamo arrivati alla fine di questo contenuto che spero vi sia piaciuto lo troverete nella playlist in fondo al canale dedicato ai video alternativi se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e commentate il video se conoscete degli altri applicativi fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa intelligenza artificiale che si sta diffondendo a macchia d'olio nella vita di tutti i giorni ciao a tutti ciao a tutti